Buon aposto! Dopo aver firmato assieme al maestro Francesco Conti la lancia d'oro della 143esima giostra del Saracino dedicata a Lucas Signorelli, l'artista irlandese Sean Shannon ha presentato New Graf, la mostra ospitata nelle sale della Fortezza. Sono 63 anni, negli ultimi dieci anni ho preso una specie di dogma della pittura contemporanea e l'ho spezzato, allora sto vivendo un momento di grande liberazione. 11 le installazioni in esposizione sino al prossimo 22 ottobre che si dispiegano negli spazi scenografici della Fortezza Medicea. Questa è un'arte del tutto particolare perché è un'arte grafica di pittura che però è vista attraverso i temi e i volumi della scultura. Anche lui, quando è entrato in Fortezza per la prima volta, si è innamorato di questo luogo e ci ha fatto capire come, a seconda del posizionamento di queste opere, queste opere cambiano carattere, cambiano modo di porsi nei confronti di uno spettatore attento. Sono opere interessanti, particolari, che fanno parte di un suo percorso di ricerca che lui segue ormai da 30 anni, anzi anche da 40, perché ha cominciato negli anni 80, e che oggi ne fanno un raffinatissimo veicolatore del colore e della forma. Quindi io sono veramente contento di ospitarla nella nostra fortezza. Da tenere conto anche che lui ha fatto un'opera appositamente per la fortezza, che è New Grass, che dà anche il nome alla mostra e che è stata fatta appositamente per questi luoghi. La mostra prosegue anche nella sede dell'Associazione Culturale Le Nuove Stanze ad Arezzo. È un artista che indaga le possibilità della pittura, ci fa vedere la pittura in una maniera nuova e addirittura ce la fa percepire pur non utilizzando a volte dei segni pittorici. Questo lo vediamo per esempio nella nostra sede, quella delle nuove stanze, dove ci sono delle opere su alluminio realizzate con degli spray, con vernice comunemente delle macchine, e dove l'effetto è quello appunto di un'indagine approfondita e assolutamente inedita sulle possibilità della pittura.